ricaricare al supercharge a 70 78 kilowatt un'altra tesla qui abbiamo gennaro come si trova con l'elettrico la tesla di gennaro altra tesla di un inglese un'altra tesla di uno di milano e infine la mia zoe che si carica lentamente però si carica vedete si alla stazione supercharge a modena un'altra tesla di un'altra tesla di un'altra tesla di gente agiorno